Ciao a tutti e benvenuti nel canale video di Timeformation Lab Italia. Io sono Delia e oggi vi guiderò la scoperta di una delle tante novità della nuova versione 2022.2 di Tableau Prep, ossia il mantenimento dell'ordinamento delle colonne nell'output. La pagina che vedete aperta in questo momento è quella della Tableau Community ed è qui che vengono formulate le nuove proposte sui possibili miglioramenti del software. Questa in particolare è una proposta di tre anni fa di Jonathan Dramey, Tableau Visionary, e pertanto dobbiamo ringraziarlo per averlo sottoposto all'attenzione di Tableau, ma soprattutto dobbiamo ringraziare gli utenti che hanno votato l'idea con un punteggio di 1.4 mila. Apriamo Tableau Prep per vedere più da vicino di cosa si tratta. Utilizziamo la tabella ordini del Superstore per l'esempio di oggi. Passo la tabella iniziale aggiungo semplicemente una fase di pulizia. Nelle versioni precedenti infatti era possibile modificare l'ordinamento delle colonne, ma solo a livello di preview e non di output. Quindi ad esempio nelle versioni precedenti prendevamo un campo e con un drag and drop lo trascinavamo e quindi spostavamo nella posizione desiderata, questo era possibile. Quindi il di ordine in questo caso veniva sistemato effettivamente dopo modalità spedizione, ma questo non avveniva a livello di output. Quindi una volta che aggiungevamo una fase di output, di ordine non avrebbe mantenuto la modifica. Vediamo come quindi nella versione 2022.2 non c'è più questo problema, ma l'ordinamento permane. Questo è possibile farlo in due modi. Quello appena mostrato e il secondo è andando nella sezione Summary View della fase di pulizia. Quindi torniamo alla fase di pulizia, andiamo nella Summary View e anche qui è possibile sempre con un drag and drop trascinare un campo nella posizione desiderata. A questo punto possiamo procedere per vedere se anche nell'output abbiamo mantenuto l'ordine. Vediamo che è di ordine nella prima posizione come quella appena cambiata e possiamo provare a generare il flusso se effettivamente questo cambiamento lo abbiamo anche nell'output. Settiamolo come più preferiamo, quindi in questo caso lo inserirò nel desktop come output, però voglio che sia un Excel piuttosto che un hyper. È indifferente, va bene anche l'hyper. Ricordiamoci che qui dobbiamo attribuire un nome al flusso di lavoro, quindi ad esempio file. E a questo punto come ultima opzione dobbiamo ricordarci di inserire crea tabella. È importante mettere crea tabella e non sostituisci i dati, perché se l'ordinamento è differente, Tableau non riesce a capire dove sostituire i dati e avrà mantenuto l'ordinamento precedente delle colonne. Una volta cliccato crea tabella, possiamo eseguire il flusso e a questo punto possiamo verificare che effettivamente il cambio sia stato fatto, quindi che il di ordine venga come prima colonna. Infatti così è. Proviamo a rimodificarlo per vedere se effettivamente il cambiamento viene eseguito, quindi ritorniamo alla pagina di pulizia, alla fase di pulizia e modifichiamo il di ordine, ad esempio mettiamolo dopo città e vediamo come il di ordine effettivamente sia stato spostato dopo città. Vi mostro quello che dicevo prima, quindi facendo sostituisci i dati, il mantenimento non viene tenuto perché Tableau non riesce a capire dove inserire i dati. Quindi l'importante è fare crea, li facciamo crea appunto, esegui flusso, sostituisci perché il nome è lo stesso e ora verifichiamo che effettivamente il cambiamento sia stato eseguito. Vediamo come appunto il di ordine sia esattamente dopo città. Gli unici file con cui questa nuova funzionalità viene eseguita sono il CSV, l'hyper e in termini database, Google BigQuery, Redshift, Snowflake e poi è possibile pubblicare su Tableau Cloud e Tableau Server. Spero che questo video sia stato utile e che continuiate a seguirci per le prossime realize di Tableau. Un saluto!